Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, innanzitutto vorrei far rimarcare che dopo questo lungo discorso, secondo me, tutti ne usciamo meglio, perché il Parlamento è stato rispettato. Ora, c'è soltanto il sottosegretario Costa, che ringrazio tanto anche per la pazienza nello svolgimento dei lavori, però vorrei che questo mio appello arrivi anche al Presidente Draghi. Non abbia paura dell'Aula. Il fatto che ci siano cose che in Costituzione non esistono, come le cabine di regia o cose di questo tipo, non deve mai far dimenticare che la sovranità appartiene al popolo, che le esercita per mezzo dei suoi rappresentanti che siedono qui. Quindi, anche se questo Governo di unità nazionale ha fatto sparire l'Alea, perché tutti sappiamo come andranno a finire le votazioni in quest'Aula, perché i partiti che compongono questo Governo di unità nazionale sono la stragrande maggioranza di quelli qua rappresentati in Parlamento, ma la possibilità per ciascuno di noi deputati di esprimersi ha un valore importante. Quindi, lo suggerisco anche in vista di futuri provvedimenti, anche un solo giorno di comunicazioni alle Camere, prima di intraprendere decisioni di grande impatto, sarebbe molto consigliabile. Si fa per, magari, i vertici europei dove non si decide nulla e non si è fatto per una cosa così impattante per le vite di tutti gli italiani come, per esempio, l'introduzione del Green Pass. Non sarebbe costato nulla fare un giorno di comunicazioni alle Camere, una bella risoluzione, e dopo il Consiglio dei Ministri sarebbe stato libero di prendere le decisioni nel dettaglio, come è giusto che sia e come è suo compito. Quindi, il fatto che, anche con sacrificio personale della Lega, che ha dovuto rinunciare ai suoi emendamenti, quindi alla titolarità e alla firma dei suoi emendamenti, questo dibattito si sia potuto svolgere senza ricorrere alla fiducia, penso che sia un richiamo che deve essere riconosciuto da parte del Governo. Il Parlamento è qui e tutti noi vogliamo parlare e dire la nostra, indipendentemente da cosa può essere il consenso su determinate decisioni. Perché in passato il decisionismo ha fatto gravi errori. Il governo Conte II, che senza mai dire niente al Parlamento, e anzi forzando le forme anche della decisione, utilizzando lo strumento del famigerato di PCM, vi ricordate, che neppure dava origine a questo dibattito per conversione di decreto, non ha portato a risultati incredibili. I coprifuochi, i lockdown, senza i risarcimento appropriati, invece vediamo man mano, piano piano, anche, man mano che rientra sperabilmente l'emergenza pandemica, di rientrare anche dall'emergenza democratica, di tornare a far lavorare il Parlamento come deve. Il Governo nuovo ha attuato con grande efficienza la campagna vaccinale. E qui si sgombrano anche, mi sembra addirittura superfluo doverlo ricordare, ma per tutti quelli che desideravano fare la vaccinazione, il fatto di aver cambiato registro ha consentito, con uno sforzo che secondo me è difficilmente guagliabile al mondo, di avere una risposta al loro desiderio. Tutti gli italiani che volevano vaccinarsi hanno potuto farlo molto velocemente. Le percentuali di vaccinazione dell'Italia sono fra le più alte al mondo e abbiamo recuperato ritardi che erano molto ingenti. Io penso che tutti gli italiani che vedevano nella vaccinazione un momento di liberazione e un momento di necessaria tutela, e penso soprattutto ai fragili, penso ai miei genitori, hanno potuto avere questa risposta rapidamente. E penso che già questo sia una questione che vada riconosciuta. Dove non riesco purtroppo a riconoscere invece il passaggio successivo, è stato nel dimezzo di una campagna vaccinale che stava andando benissimo con nessun tipo di costrizione, a un certo punto quest'estate questa accelerazione verso l'obbligo, verso la costrizione, verso il Green Pass. Perché? Io ancora me lo domando. Stava andando tutto benissimo. Fossimo stati ultimi al mondo per livelli vaccinali. E a un certo punto uno dice ragazzi siamo nei guai. Ma eravamo primi come sviluppo. E quindi non capisco perché si sia arrivati a questa forzatura. La forzatura porta radicalizzazione. Se la nostra argomentazione deve essere che il vaccino è buono, che il vaccino salva la vita, beh capite che l'obbligo non viene molto bene per vendere questo messaggio. E' così buono e io ti obbligo. Non è logico e non porta risultati. E infatti non c'è stato l'enorme incremento da parte delle prenotazioni per i vaccini. Anzi ci sono stati momenti di contestazione, momenti di rabbia, momenti di paura che erano totalmente non necessari. C'è ampia letteratura scientifica sul fatto che l'obbligo non sia benefico per arrivare a una maggiore copertura vaccinale. Lo strumento del Green Pass che qualcuno ha sentito presentare come unico strumento possibile. Se è l'unico strumento possibile dovrebbero avercelo tutti al mondo. E invece non ce l'hanno tutti al mondo. La Danimarca ce l'aveva prima di tutti, l'ha ritirato. Siamo noi la Francia che stiamo facendo un esperimento. La Spagna ha iniziato anche lei a parlare di Green Pass, sono partiti i tribunali, molto più velocemente di quello che fanno da altre parti, hanno dichiarato che erano illegittimi i Green Pass in Spagna. L'estate della Spagna senza Green Pass in confronto all'estate della Francia ha fatto vedere che c'è stato un calo maggiore di contagi in Spagna che in Francia. Quindi forse non è l'unico strumento. E oltretutto vorrei che fosse chiaro che vengano valutate all'interno delle decisioni del governo le differenze di età, il problema grosso che noi possiamo e l'errore grave che noi vediamo è proprio quello di considerare tutti uguali. Il virus è asimmetrico, è tanto più grave per un anziano quanto meno grave per un giovane. Non è né bene né male, per me la vita di un giovane vale quanto quella di un anziano, ma va tenuto presente e soprattutto il bilanciamento rischi-benefici delle decisioni non può non essere tenuto presente perché altrimenti è come vedere un bilancio con solo costi e solo ricavi. Il danno del lockdown è il danno delle chiusure, il danno della DAD è il danno dei disagi dei ragazzi, il vantaggio della DAD che risparmia contagi ma da un'altra parte è il danno del disagio dei giovani. Quindi, tenere presente tutte e due il danno potenziale di una cosa pure benefica come il vaccino sono gli effetti avversi e non possono non essere considerati nel bilanciamento specialmente per i giovani e per i minorenni. Noi abbiamo insistito, votando anche contro il parere del governo, cosa che ha fatto molto scalpore ma dovrebbe essere invece considerata come un più per quest'aula che liberamente si può esprimere su singoli temi, in merito alla prudenza per il green pass per i minorenni in modo tale che non diventi un obbligo sul rettizio perché? Perché molto semplicemente i dati indicano che le reazioni avverse per i ragazzi sono forti o quantomeno probabili. Dall'altra parte i rischi del covid sono bassi per cui questa cosa che in altri paesi sta portando a decisioni diverse merita un po' di approfondimento in più. Chiudo, Presidente. Vorrei però ricordare che grazie anche al nostro atteggiamento, che qualcuno lo considera irresponsabile, io considero doveroso da parte della Lega per portare e rivendicare delle posizioni che portano a dei risultati per i nostri cittadini, abbiamo ottenuto in sede di impegni di ordine del giorno degli impegni importanti, le risorse per i tamponi a prezzo simbolico, l'aumento a 12 mesi della validità del green pass per i guariti, il riconoscimento dei tamponi salivari rapidi a breve, la tutela dei lavoratori con la quarantena, l'inizio di indennizzare per i danni di vaccino e il riconoscimento per l'utilizzo dei monoclonali. Rivendico poi, e infine scusate, chiudo e vi saluto, rivendico il lavoro fatto bene, bene con Fratelli d'Italia perché è opportuno che in questi casi e in questo Parlamento ci siano degli argomenti che passano oltre alle maggioranze di governo momentane. Grazie. Grazie, Donore Borghi. Ha chiesto di intervenire, Donore Gianaro.